Un importante concorso nazionale di equitazione avrà luogo nella conca di Agnano dal 30 aprile al 5 maggio, in una settimana dedicata agli sport equestri, con esibizioni dimostrative, incontri mondani e la competizione vera e propria, il gran premio di salto ad ostacoli che chiuderà domenica 5 la manifestazione. Gli eventi si svolgeranno nella struttura privata del Cavaliere Country Club. Dopo Salerno, dopo Mercatello, che ha visto il rilancio dell'equitazione in campagna con ben 400 cavalieri, ecco qui il concorso del Cavaliere dove noi abbiamo avuto 300 iscrizioni, addirittura molti cavalieri sono rimasti fuori perché non hanno potuto partecipare per mancanza di posto. A differenza di molti che ritengono che questo sia uno sport per nobili, noi riteniamo che questo è un nobile sport. Quindi questo è un rilancio che noi facciamo con il ringraziamento che mi è d'obbligo a tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questo concorso che finalmente porterà una bellissima vetrina in questa città che ha bisogno di un rilancio oltre che sportivo anche turistico. La manifestazione sportiva è patrocinata dal Comune di Napoli, anche con l'idea di richiamare l'attenzione sull'area di Agnano, già avvocata al turismo termale. Questa amministrazione punta molto sugli eventi sportivi e culturali e ovviamente quando poi il tutto nasce da un'iniziativa privata dove entrano degli sponsor anche privati che decidono di mettersi a disposizione della città nell'ottica di una rivalorizzazione anche di un'area bellissima quale questa, l'amministrazione non può che essere contenta e non può che sponsorizzare questi eventi.